E va, te la piande, cura! Ti credi tanto figo? Per cosa? Per barare così. Io non baro mai un bastardo. E allora come fai a vincere sempre? Ho imparato a contare le carte. Ah sì? E dove hai studiato allora? Al Politecnico di Torino. E che cazzo fai a Torino? Ma, per esempio, devo gestire questo blog per il corso di rivoluzione digitale del professor De Martin. L'ho aperto con altri 4 cristiani. Si chiama Nuovo Cinema Digitale, su Tumblr. Parliamo di come il cinesi si è evoluto digitalmente, come industria, come arte, nel corso degli anni. Ah, roba per finocchi. Sì, roba per finocchi. Perché lo stai guardando? Sì, 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 scrolla così. Guarda quanto è bello il nostro blog. Va bene l'ultimo, ma perché tu hai la pistola e il telefono ora? Forse perché sono bravo a barare. E adesso perché hai un cappello da cowboy? Perché non dovrei. Ah, hai ragione. Beh, aspettate, andate sul blog.